L'industrializzazione dell'agricoltura ha spinto gli agricoltori a usare sempre più input agricoli come sementi, pesticidi e fertilizzanti. Le varietà possono essere protette da diritti di proprietà intellettuale e quindi non essere più scambiabili o liberamente disponibili per gli agricoltori. Tutto ciò minaccia le conoscenze e le pratiche tradizionali dei contadini, il diritto di tutti gli esseri umani a nutrirsi con dignità e l'agrobiodiversità. Se si considera che la maggior parte della popolazione mondiale dipende dall'agricoltura su piccola scala per il proprio sostentamento, l'industrializzazione rappresenta un rischio enorme. Il concetto dei diritti degli agricoltori è nato nei primi anni Ottanta ed è stato formalmente riconosciuto dalla Conferenza della FAO verso la fine del decennio. È stato codificato nell'articolo 9 del Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, nel 2001. Altre importanti pietremiliari internazionali sono state la Convenzione sulla diversità biologica del 1992 e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2008. Nel 2018 è stata adottata la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e delle persone che lavorano nelle zone rurali. Nello stesso anno, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a sostenere questa dichiarazione e ad integrare questi principi nelle loro leggi e politiche. In base a questa dichiarazione, ci sono cinque elementi nei diritti dei contadini sulle sementi. Il diritto di conservare, controllare, proteggere e sviluppare i propri semi e le proprie conoscenze tradizionali. Il diritto di proteggere le conoscenze, l'innovazione e le pratiche tradizionali relative alle sementi. Il diritto di partecipare al processo decisionale relativo alle sementi. Il diritto di condividere equamente i benefici provenienti dall'utilizzo dei semi. Ed infine il diritto di conservare, usare, scambiare e vendere sementi o materiale di propagazione proveniente dall'azienda agricola. Grazie. 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 Grazie.